Un assist, un gol e tanto fiato per reggere e superare Capolei sulla corsa. Sono sue le giocate che permettono al Tony Ponzi di rientrare subito in partita, senza lasciare che il tempo affievolisca le velleità dei propri compagni. Bellissima la conclusione con cui firma il 2 a 1. Filippo Acquaviva, voto 7 e mezzo, Cavalleria Rusticana. Una prova maiuscola, una serata in cui ogni pallone che tocca si trasforma in una minaccia per gli avversari e sembra che su quel piede abbia un radar capace di trovare sempre l'angolino giusto dove scagliare il pallone. Davide Lefebvre, voto 8, Nobile. Allo Sport City il centrocampo ha un solo padrone, Riccardo Giannini. Il numero 5 con la maglia bianca domina con costanza la sua porzione di campo, muovendosi spesso tra le linee e toccando un'infinità di palloni. Riporta avanti i suoi con la staffilata del 3 a 2. Riccardo Giannini, voto 7 e mezzo, imprescindibile. Ecco il Daniele Rossi che conosciamo, apre le danze con un assist raffinatissimo e chiude il sipario con il gol del poker. Loi chiama, Rossi risponde, adesso ci siamo. Daniele Rossi, voto 8, ritorno al futuro. Velocità, classe e senso del gol. Questo è il Crielesi formato super che ha steso da solo il Siwa Capitolini. Se al suo talento aggiungi le giuste motivazioni, può essere devastante. Antonio Crielesi, voto 8. Fantantonio